Oddio, quella è Lux con il Glacial Augment, Mauri Di bene in meglio Minchia, potevo prenderlo anch'io su Rides, ora che ci penso, il Glacial Augment Madonna, è vero Minchia, mi prendevo la build quella con... La rottura di palle, proprio Sì, sì, la GLP800 e company L'emote del ballo Dancing Fieric La vedi in chat Grazie mille, Patex, del R-Sub, bentornato, un altro anniversario Grazie mille, bro Bentornato, come stai, Patex? Da quanto tempo pure te? Ricordami un attimo di che cosa devo fare io Cioè io devo fare tutto quello che mi dicono loro Allora, sì, allora ti spiego ragazzi Adesso vi spiego come funziona Dov'è pure il gearway No, pole, ecco qua Oh cacca, aspetta che devo caricarlo Lista oggetti, eccola qua, perfetto Allora, vi spiego come funzionerà Oddio, aspetta che è tutto incasinato qua Un attimo Sono un attimo in difficoltà, Mauro, aspetta Tranquillo Caudi scale 40 Mamma mia Perfetto, così, così E poi Show minimo upon left Mausa speed rimettiamo così Ok, perfetto Tipo il primo oggetto posso scegliere io? Sì, 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 il primo oggetto scegli quello che vuoi Senza problema Allora Spelltif e due poze Allora vi spiego ragazzi come funzionerà Adesso apriamo le votazioni Voi dovete votare in questo modo Facendo punto esclamativo vote Staccato il numero corrispondente all'oggetto Che volete che compriamo Ovviamente le build non saranno le stesse Il primo oggetto con più punti me lo farò io E il secondo oggetto con più punti se lo farà Mauro E ci scambieremo questa cosa tutte le votazioni Quindi dopodiché il primo oggetto a Mauro e il secondo a me E via così, ok? Ho capito Quindi La lista la trovate sotto la live Se andate giù con il rotello Oppure in chat tra poco Appena aprirò la votazione Quindi adesso Un attimo che controllo che vada tutto bene Ok, direi di sì Faremo Il Punto esclamativo Aspettate Ma la apro Scusa, fallo partire adesso, no? Sì, sono con lo smart, Erics Sì, sì, adesso lo faccio partire Allora avete Tre minuti ragazzi per votare Il prossimo oggetto a comprare Via Vi ricordo che il primo oggetto è per me E il secondo è per Mauro Votate Quella lì è tutta la lista Ripeto, la trovate sia sotto la live che lì in chat Poi insieme ti ho voto staccato all'oggetto Il primo lo builderò io Il secondo è Mauro Che pare, per tossire devo muovermi dal microfono Non so, vi ammazzo tutti quanti Mauro, perché stanno sotto torre questi? Boom Comet Hanno paura di Ryze Ryze support con la W Sbloccata fa paura effettivamente Come dargli torto Come dargli torto Guarda come stanno lontani Se non luce E luce anche ho beccato ieri sera Oddio Mamma mia Mauro Easy Easy Hai visto? Ne è valsa la pena Grazie evento del ReSub Bentornato nella FelixArne Carissimo Nove mesi pure te Nuovo emblema Nuovo stemma È quello rosa Guarda lì che bello Bella Dio bello Bentornato bro Tu, 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 tu Oddio Oh Oh Sto farmando Attento Che cacchio Mauro e pure te Dimmi te cosa Cosa mi tocca vedere Eh io farm Eh lo so Ho visto che farm Bravo Il cannone l'ho preso intanto E gli è già tante Oddio E questa? Eh C'è quest'altro dietro Grazie apprezzato Ma dovresti riuscire a killar Ottimo flash Oddio Guarda come spara Mauri Tac 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 Mamma mia Il Jace versione funzionante Perché non diventi main bar Se vuoi giocare DC Mauri Ti ci vedo Dici? Sì Bella Master Shaco Bentornato nella FelixArne Grazie a dieci mesi anche a te Come stai carissimo Come stai Mi raccomando Non mancate domani sera È importantissimo Non Vi proprio Vi romperò il cazzo Fino domani sera Dovete esserci Assolutamente Pure te Mauri Rivederti la live E fare casino Ma aspetta un attimo Adesso io Il primo giotto qua Posso deciderlo io Vero? Ah io ho fatto Io sono dato Ah beh Io ho preso la goccia Però effettivamente Aspetta Mauri Finisce la votazione adesso L'ho comprata senza pensare Effettivamente Vediamo cosa Allora Io devo prendermi il gargoyle E tu Mauri Devi prenderti la death dance Non ti è andata neanche male Ah A posto Ah ok Io ho preso La goccia In realtà non dovevo farmi Cioè l'ho presa distinto Vabbè dai Lo usiamo come scusa Per il sostendimana Comunque si Prendo il gargoyle Ah va benissimo Posso prenderle? Le scarpe Le scarpe a scelta Si Ah no va bene Madonna Eh si si Eh stava tipo a 120 Una cosa del genere Io quando l'ho conosciuto Mi ricordo Ho visto Un video che abbiamo fatto insieme Anche quando l'ho visto Luca Comunque dopo Dopo che abbiamo Chillati quattro volte Stanno più tranquilli Hai visto? Eh ci crede Beh non è che prima Possono molto Aggressivi Dai ragazzi Su via Guarda lì Ok Eh Allora Così Non lo fare mai più Non fa danno Comunque Si Eh secondo me Sta maxando la Q Sai Via Peccato che non la hit Vai tranquillo Massa What Surrealistic Secondo me Offesa perché Trash Mid Ha una kill La sta battendo Eh si Eh Guarda ma No aspetta Com'è che facevo Guarda Questa cosa è bellissima Non mi si stacca Guarda dal braccio Eh Guarda Oh Ma Mi si Fa una cosa nel braccio Arriba Olaf Arriba Olaf Yes Ora ult Vai Andiamo noi da Olaf a sto punto Andiamo noi da Olaf Eccolo qua Ecco Bravo Maury c'è Annie Mangia l'insalata Maury Spero che non abbia l'ultimo Ma si è corto Ma che ne è addormentatissimo Allora Hai finito il primo oggetto Maury faccio partire la votazione per il prossimo Eh sì Soldi giusti Un attimo Stop watch Gargoyle Iniziamo con Con l'armor Qua Vai Allora Signori Per il prossimo invece Funzionerà così Il primo oggetto L'oggetto con più voti Lo comprerò Maury L'oggetto con Il secondo oggetto con più voti Lo comprerò io Quindi Start Maury lasciarmi un po' di kill Altrimenti Non riusciamo ad andare alla pari And let's go Votati Punto esclamativo Vote staccato Il numero dell'oggetto corrispondente Bella Colu Grazie mille Del resub Bro Non riesco a raggiungere Ah Quasi ci sono Ah Ok No Nooo E poi era partito Era partito E' partito Ho provato a cliccare per terra Per esattarlo Ma Grazie ancora Colu Bentornato Da un po' che non passavi il live Tassa E lui ha scritto GG Chissà se si è resa o cosa E' per la botta Mi sembra Ah Può essere E' come siamo 7-1 Ecco qua E' per diritto questo Ecco qua Almeno Almeno bilanciamo un po' Oh Aiuto Mauri Oh lì è Ah No Ha fresciato Vabbè Vabbè Ha fatto un bel panic flash Ok Lasciami la torre Mari vai via Così prendo più soldi No vabbè Tanto non ci si riesce Ci avresti Prendi la place Sì sì No se le prendo anche io Quanti soldi hai Maury 1.242 Vai prenditi le scarpe Allora Oddio Non compro altro Eh per adesso no Ti vuoi raggiungere Ma ormai ci sono in realtà Cioè avrei i soldi Però Dovevo fare Dovrei farmare Non è un problema Non è un problema Con te 50 gold mi mancano Ok Adesso ti dico Mauri quali saranno I nostri prossimi oggetti Ok Allora Ah tra 15 secondi Finisce la votazione Signori 15 secondi Guarda che bello Rez con la gargoyle Firstight Ricordo che il primo oggetto Stavolta è di Mario Il secondo è mio 3 2 1 Mario si deve buildare Lo static Ma è normale la build Ma gli state dando una build Troppo normale ragazzi Mannaggia Vediamo io invece Te l'è cagata Io la tene Si è una cagata Almeno è AP Ragazzi cos'è sta build normale Che state andando a Mauri Posso saperlo Eh cosa vi è preso L'altra volta mi avete fatto Buildare E l'arven sensor su Garen La tene e l'arven sensor su Garen Solidarità per Mauri Soltanto perché sei ammalato Mauri Eh si Oddio Fatemi salv domani ragazzi Sì comunque non sta maxando lei di certo Ma in realtà nemmeno la QB sa Perché non fa proprio danno La WB mi sa Eh si Mi sa proprio di sicuro Perché non è AP comunque quindi Si ho capito Però Lux ha dei danni base Sì però comunque dei danni da dove fare Si No la è sicuramente Ah che bella la come su Arise Io l'adoro Si max la W Guarda che scudo si è messa MF che max la W Oddio MF non Non lo so No MF ho maxato la Q No no ho visti i danni MF max la Q Lux che max la W No gara sotto la live Vai giù con la rotella Oppure quando si apre la votazione Si vede Ah c'è il terzo oggetto Vabbè Tu Mari quanti soldi hai Mari ci avrà già i soldi Negli due Mari hai messo Oh guarda chi c'è Non lo voglio adultare Perché c'è Nemmeno lui evidentemente Nemmeno lui ha voglia adultare Ah meglio così Dobbiamo difendere Io c'ho la Gargoyle Quindi un po' posso tankare Tu hai la Death Dance Ah non ingaggiamo Kain Pensavo Kain voleva fotterti il farm Ma ora mi dispiace Solo per quello viene qua Fai buttare l'ultimo Che l'ho anche preso Vedi vedi Solo piglio Ecco bravo Perfetto Signori Intanto possiamo fare già la prossima votazione Tu lo state Che io la Tene Reset Votazione per il terzo oggetto Adesso il primo oggetto è per me E il secondo per Maury Via La lista è in chat Allora io cosa ho detto Che devo buildare la Tene Con che cazzo si fa la Tene E che guarda il drago Vediamo chi se lo prende stavolta Oh 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 Ho visto anche tu Rick L'ho visto Il flash non l'ho visto Oddio me lo son perso Eh Si perso il flash per fare dann No Di chi? Di Kain? Eh di Kain Per fare dann al drago Ah ok Ha fasciuto perso il drago Pensavo per doggiare la ulti di Lux No no Il flash sta a 2-4 comunque Eh meglio di Kain Vero Toccherà carriare a noi Maury Con le nostre bellissime build Eh per ora la mia va bene quindi La faccio anche Mi son fatto il calice qua Vero Elth regen equal to base Mana regen Oddio questa cosa il calice non la sapevo Che dava La stessa Elth regen in base al mana regen che hai E' figo Non lo sapevo Si si male a te Non è male Non ho cambiato un sacco di volte però Ok Ho Kain Sempre zitto Eh si Ciao Kain Lux è lì per caso Che volevo ammazzarmi Miss Forza No Infatti è qua Era lì nascosta nel cespuglio Molto intelligente Mi chiamavo Meno male che ci sei te Dive Oddio l'ha detto Oddio il dive Eh no Hai visto Rick No sei impegnato a Meglio Ok Attenzione Ola Olaf con la GA Oddio Oggetto da giu Ok Sindero che GA Ma che lo siamo intanto per sapere Basso Così tanto basso Quello che basta No comunque Iron Cioè l'iron e il bronzo diciamo Lì per di lì Vendiamo sto cesso Non ho più la GA Che schifo i poveri Bella De Angelus Grazie di cheers Grazie dell'elemosina La votazione Ah tra 17 secondi ragazzi Finisce la votazione Ok Tra un po' ci dicono il prossimo oggetto Cioè adesso Il primo oggetto è per me Quindi 2 1 Via Shojin e Zezeroth Hanno vinto entrambi Quale vuoi farti? Fatti tu lo Shojin e faccio lo Zeroth Vai Io lo Shojin E' troppo sbroccato per me Esatto Se no diventa troppo forte Maury Andata Mi dispiace Facciamo lo strappo alla regola Ma no Alla fine sono pari Hai ragione A parità decidiamo noi E decidiamo per il peggio giustamente Siamo molto intelligenti noi due Ma il medic registro mi serviva per Annie Quindi Ah no perfetto Oh no sto arrivando Maury mi sta ammazzando Come faccio? Ho lì Ho capito ma ci sono anche gli altri Ma chi ce ne frega Guarda Hai visto? Cioè ce la sei anche avata Maury bullizza come al solito La freccia in faccia Abbiamo fatto ace maury what? Fortissimo I nostri aviati sono bravi Beh bravi Se la cava non sai Kane no Gli altri forse Beh Renetton neanche Tu non hai visto Renetton però No non neanche ho visto la cava Forse è trash Maury Tu li Davvero Li iscrivi male Sto discriminando Eh si Maury fremmi in giro gli iron Eh ragazzi come al solito Che ci volete fare? Ah io devo farmi la shojin abbiamo detto Appoggio maury main varus Ma alla fine varus è un jace che ci ha creduto un po' di più Ottiva descrizione Ma che bella build mi sto facendo Sembra carrivale Non lo so Ma Vado a capire La Tene il fatto La cosa bella della Tene è che costa pochissimo Vai vai sto arrivando Improvvisamente Aram Ottimo Ed è subito Aram Eh si Infatti questo è stato crazy Eccoli Eh i fight sono perditi Vai 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 Del vulto adesso un po' di casino perfetto Ho la scattiva la ultima wifi No Vabbè Facile Contro Ti piace vincere è facile Se gareggi contro Lux Va Ma sembra che Cado così Minchia che distanza mi ha preso quella roba È un bel range Come si è messo soldi? Devo già far partire la prossima votazione Io ovviamente non li ho perché Devo farmi la shojin Varus smurg Ammi smurg Ah smurg volevo scrivere Ups Hai scritto troppo bene Mauri Smurg Bro you are so bad Scrivili and you are so salty I love it Saltiness Mauri sfotte Dopo lo 08 cosa faccio Rick? Ah le cacchio Intanto te lo sei già fatto È spagnolo a posto Allora Votazioni per il prossimo oggetto Primo item per Mauri Secondo per me Via Veloci che sono in base Aspettare Ah ci vogliono 3 minuti Io godiste la promo Disculpami Mauri quanti soldi hai? Tutti spagnoli Rick Non mille Allora vai via Non stare in base Non sai che coño hago Jugando con un personale Che ne uso Ah è ne è first time Ah ok E allora Chiedile perché giochi alle ranked Meno male che abbiamo Mauri Che traduce sta roba qua Grazie Livia del sub È benvenuta a sto punto Ah perché hanno bannato il pick Dimmi te Grazie mille il sub E benvenuto O benvenuta nella Felix Lux scrive Varus lasciami vincere la promo Per favore Sexy Ok Non ti traduco il resto Oddio C'è detto che sono mezzo fk E in effetti è anche vero E a me non faceva attivare La gargoyle Cosa devo buildare? Ma sei ancora in base Ho detto di uscire dalla base Vai 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 a fare cose Arrivo 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 Vabbè ragazzi Mauri in caso particolare Sorry lag Guarda che c'è lo zanotte Dove guardare lì a vedere e capire se è maschio o una femmina Non ce lo dice Si vergogna Cosa? Ha fatto il sub una persona che si chiama Livia L Y V A E beh in teoria E non capisco se è maschio o una femmina Cioè non ce lo dico Non capisco Che scrive in chat Scrive in chat Sei maschio o femmina Facci sapere Vai tra 50 secondi esce il famoso item Io comunque ho rinunciato alle scarpe Le ho vendute Te la como Ha detto che la mangia Si hai capito Quello lo so capire Lo so capisco anch'io Com'è Se vai a FK ti regala una No Ti regala qualcosa di brutto? Si Ah Un'icona Grazie mille Andrea Fulmine del sub E benvenuto nella ferizzarmi carissimo Ah Benvenuto Che seguiva che Renis fosse scocciato di vedere le pratite in bianco e nero Attenzione Uuu E' un dissing questo Mamma mia questo è pesante Non l'ho nemmeno fatto io Ma da un ex sub di Vincenzo Vabbè Grazie mille comunque per aver scelto questo canale Nulla da togliere a Vincenzo Grazie anche il signor Andrea Anche tu andrai un sub di Vincenzo Comunque Mauri Riuscite alla votazione De Io devo farmi No è per me o per te No stavolta prima te vero Eh si Ok devi farti Redemption Ah va bene Mamma mia È difficile giocare con sta build qua C'ho un miscuglio di item inutili Vado a comprarlo Bravo Devi farti Redemption Redemption Va bene Votazione E io cos'è che Aspetta devo vedere qui No 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 pure io Ah io devo buildarmi la Tormail Perfetto Grazie mille questa build tank Ragazzi Ricordati che Ricordatemi la Tormail Brossima votazione Primo item Io secondo Mauri Vai Votate Cos'è che cosa ha detto Quello è l'aspetta Aspetta Mauri Concentriamoci sul file Un attimo Uh Questa è bella Ho fatto una chiedire Redemption Honest Ecco qua Allora Lux ha scritto Varus Cosa ti costa Che domani vado in viaggio Ok E non potrò Salire per questa partita Dai per favore Che non potrò giocare Fino a venerdì Il prossimo Spuntami Che voglia Che sto essendo Ma come farm Quel trash Gli ho letteralmente detto Che sto facendo una build Del A caso E che se non vince così Un problema solo Varus dame oro Eh no Chiedi troppo adesso Quante storie Ricco ultimo oggetto Cosa faccio Allora Eh stanno votando Tra un minuto e mezzo Ce l'hai Quanti soldi hai 740 Oh allora a posto Non ci perdi molto E sono indietro Purtroppo Non ho 13 kill Però sono a livello 13 Come te Già che non sto indietro Di livello Tanta roba Eh a posto Attenzione Cain Comunque quell'Olaf ci mette sempre troppo Ad attivare la ulti Meglio così Sì Ragazzi vi porto i minion Un attimo Eccomi qua È vero vento È vero Mamma mia che poema è sta partita Cos'è una telenovelas Potete stare zitti Ecco Io la scrivo a Reniton Vi la mettete un po' troppo Un giorno farò una live Spagnolo A caso Mi scrivete in italiano E comunque vi rispondo in spagnolo Ottima idea Poi facciamo tipo un tutorial Spanish Aspettiamo a di 15 secondi C'è l'item Sei pronto? Ok Ok Vabbè facciamo stop adesso Via Il primo item Abbiamo detto che era mio Stavolta Ti bruci i testicoli Frozen art E rapid fire cannon Cosa vuoi build art? Rapid fire cannon devo fare O frozen art No no Andiamo a vincere a sto partita Perché dobbiamo vincere? Questi spagnoli maledetti Va bene Fire up il fire cannon Soltanto per gli spagnoli ragazzi Vi lasciamo fare E poi anche perché mi No in realtà questo è un uguale Ma ha davvero trovato il bot Oddio che capisci Che c'è una parità con C'è un legame C'è un legame tra quegli oggetti Non ho col... L'ha davvero scritto Non ho visto Oddio Bello Vai Rick Hai tranquillo Sono... Full tank Sei Ti ho detto Sono lento Io purtroppo non ci arrivo fino alla No Cosa ho visto? Non ci arrivo No Adesso ulta Te l'ho detto che ulta Soltanto alla fine Questo Cos'è non ci credevi? Non so l'avessi usata Non così tanto Tardi Tu devi farla Tormil Ragazzi Io lo so Che devo farmi la Tormil Infatti me la sto facendo Però non ho i soldi di Mauri Ma non è neanche un'arte Scusa Sì ma c'ho la Tormil Prima Ancora La The Redemption Te l'ho detto Mauri 13 kill Non è paragonabile Via Uh Dovevo rimettere 140 di moving speed È vero che non è descarto Ma scusa Vendi quella goccia? Eh ma è il mio sostendimana Eh ho capito C'è tutto per uccidere me questa Vabbè Ma io sto bene senza scarpe Non è un problema Manca un po' di un break È bella Sirius Sì sì C'ha il suo perché C'ha il suo perché È l'ultimo item questo Mauri Sì Per me sì Il male è sopravvalutato sui rides Beh Non so perché C'è ho comunque la Tene Però Io volevo sacrificare le scarpe Per farmi l'abbraccio serafico Sono zingaro senza scarpe C'ha degli stivali brutti Guardate quanto cazzo scrive sta gente Ma che è Spagnoli di merda Gli italiani non scrivono così tanto Anche quando c'è No lascia stare Dick No 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 Lascia stare Quelli che becco io no Si vede che non fai normal da tanto Io faccio anche normal Ma che cazzo in c***a la chat Gli udici italiani che becco Sono quelli I miei fan È per quello Fidati La persona multiculturale te lo posso dire Tutti dicono che i spagnoli li fanno cagare Ma gli spagnoli non scherzano I francesi invece Eh lì siamo su un altro I francesi purtroppo non hanno più certezze Nel proteggere le cori Mi dissocia Sì sì pure io mi dissocia da quello che ho appena detto Mi intendevo su League of Legends Perché noi italiani ci abbiamo con i francesi Ragazzi cosa avete capito Parliamo di League of Legends Esatto parliamo È una rivalità perenne Perché Andy non fa il minimo danno Cioè ok che sono tank però Oddio È lo nice girl Ecco qua Ecco qua Adesso mi insultano 100% Balla sei l'unico non spagnolo Ecco qua Che cazzo ti ho avuto Perfetto Bravo Maui Allora 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 Grazie.